Questa pandemia ormai sta creando dei problemi sociali straordinari. Sto vedendo le decisioni che sta prendendo Boris Johnson. Probabilmente si sta prendendo anche dei rischi, ma mi chiedo anche se invece il nostro posizionamento molto, molto, molto prudente possa essere tenuto a lungo. Continuare a tenere chiusi discoteche, live club, eccetera, eccetera. Non è che poi i ragazzi stanno in casa, ne vanno in giro, ma più o meno giustamente. Quindi ritengo che sia molto difficile continuare a gestire in queste situazioni.